I have a wonderful electronic invention I want you to see, it looks something like you. In questo numero tutti gli spettacoli teatrali e musicali della settimana ed in primo piano la rassegna Natale in Classic su Teletruria. Uno spettacolo prodotto da Marche Teatro che ha visto la sua genesi nel periodo del lockdown. È stato provato ad Ancona, poi portato in scena sul finire dello scorso anno ed ha ripreso il percorso proprio in questa stagione. Al Petrarca due rappresentazioni di successo, la prima proprio sabato sera. Ma sentiamo l'interprete di Cyrano de Bergerac, ovvero Arturo Cirillo, sullo spettacolo e sulle sue difficoltà. Diciamo che la difficoltà più grande non è tanto trasporre quest'opera in musical, la difficoltà forse più grande è di fare stare insieme tante cose. Perché in realtà, come dire, perché comunque c'è il testo di Rostan, che chiaramente è stato anche molto tagliato. C'è, appunto, ci sono le canzoni di Modugno, a un certo punto le canzoni di Modugno poi in realtà scompaiono e, se vogliamo, un pochino più invece il sopravvento invece delle citazioni di Fiorenzo Carpi che ha fatto le musiche per il Pinocchio di Comincini in televisione. Poi, appunto, poi che cos'altro accade? Lo spettacolo stesso, diciamo, come dire, attraversa anche vari generi, perché poi fondamentalmente parte quasi come se fosse quasi un po' uno show e poi invece piano piano diventa invece molto più drammatico, tra l'altro. Quindi, diciamo, che la scommessa e l'arditezza di tutta quanto l'operazione è di tenere insieme veramente tantissimi generi. Sembrerebbe, appunto, che questa cosa, come dire, funziona. Magari, appunto, magari forse all'inizio il pubblico fa un pochino fatica, come dire, cioè magari forse all'inizio resta anche un pochino spiazzato, però poi piano piano, in qualche modo, soprattutto quando poi la vicenda in qualche modo prende poi il sopravvento, che poi, tra l'altro, è anche una vicenda, come dire, anche molto bella, insomma, devo dire. Allora, poi a quel punto, poi invece si fa lisci. Successo per il Don Quixote di Stivalaccio al Teatro Spina. Protagonisti assoluti della scena, i due personaggi Pasquati, Padovano, in arte pantalone, e Girolamo Salimbeni, Fiorentino, in arte piombino. Due attori della celebre Compagnia dei Comici Gelosi, attiva e applaudita in tutta l'Europa tra il XVI ed il XVII secolo. I due sono saliti sul palco per raccontare alla platea di come sono sfuggiti alla forca grazie a Don Quixote e Sancho Panza, ma soprattutto grazie al pubblico. A partire dall'ultimo desiderio dei condannati a morte, prendono il via le avventure di una delle coppie comiche più famose della storia della letteratura, filtrate dall'estro dei due saltimbanchi che arrancano nel tentativo di procrastinare l'esecuzione, rimandata grazie al racconto di mulini a vento ed eserciti di pecore. Stivalaccio Teatro è una compagnia teatrale di Vicenza che si occupa da tempo di teatro popolare, commedia dell'arte, teatro per ragazzi e arte di strada. Al Teatro Spina di Castiglion Fiorentino è andato in scena l'incrocio perfetto tra il dialetto veneto, pomposo, leggero, e di il vernacolo toscano Stoccate, veleno, bastonate, che ha stimolato un'allegria contagiosa. Tanti gli applausi ed un successo davvero importante per questo spettacolo, che riporta un po' anche la tradizione teatrale dal passato ai nostri giorni. Al via da venerdì 6 gennaio, la stagione 2023 del Teatro Comunale di Cavriglia, realizzata in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo. Sarà un vero e proprio viaggio a 360 gradi nel mondo del teatro, dalla commedia, il mondo della comicità, ma anche il mondo della riflessione, della memoria e dell'impegno civile. Ci saranno due appuntamenti circa al mese, fino al prossimo 2 aprile. Il sipario del Teatro Comunale si alzerà con la messa in scena di una ragazza come io, con Chiara Francini. Poi avremo uno spettacolo dedicato alla memoria di Lucio Battisti, che è uno spettacolo musicale, di fatto dell'orchestra musicale toscana, nei 25 anni dalla sua morte, del grande artista e del cantautore italiano. Un altro spettacolo in prossimità dei giorni della memoria, legato al delitto Matteotti. Sono quasi 100 anni dal rapimento e dall'uccisione del dirigente del Partito Socialista, che venne ucciso all'inizio agli albori del fascismo. E poi successivamente altri due spettacoli molto interessanti, molto diversi anche l'uno dall'altro. Uno di un volto noto della TV, Ettore Bassi, per uno spettacolo tratto da un libro di vecchioni. E poi Maria Meliamonti, che già è stata su questo palco altre due volte negli anni passati. Insomma, uno spettacolo dietro l'altro, ma anche un viaggio nel mondo del teatro, perché si alterneranno monologhi ad altri appuntamenti e commedie davvero interessanti. È tutto pronto e c'è grande attesa per il concerto di Capodanno. Direttore, ci può anticipare qualcosa? Veniamo dal concerto di Natale, sostanzialmente sold out. Torna il concertone di Capodanno, quest'anno, finalmente con Loida, i nostri amici qui di Arezzo. Quest'anno la novità è che sappiamo che per il concerto di Capodanno era sempre tutto esaurito. La Fondazione ha deciso, in accordo con l'orchestra, di fare una prova generale aperta per dare possibilità a tanti altri aritini di vedere quello che succederà il primo dell'anno. Questa prova generale sarà il 31 alle 10. Il programma, sì, sarà un viaggio che inizieremo dall'Italia con Rossini e dedicato soprattutto alle danze e alla musica del mondo. Quindi Carmen de Bizet, quindi un francese che scrive per la Spagna, Vorjac, Brahms, Borodin, le danze polovesiane sono bellissime. Concluderemo con un brano travolgente di ritmi cubani e latini, con Danzon di Marquez, quindi che è diventato un po' l'inno con Dudu Amel del progetto Abreu, delle orchestre venezuelane. Anche lì un autore messicano che però rappresenta in qualche modo Venezuela. Quindi un viaggio musicale nel mondo con danza, allegria e bella musica. Gospel Festival, doppia partenza, Montepulciano a Castelfranco. Come sono andati questi concerti d'apertura? Direi molto bene, sia per quello che riguarda la partecipazione del pubblico che per quello che riguarda ovviamente l'esito dei concerti, perché come tutti i concerti del Toscana Gospel Festival, con queste formazioni musicali e corali che vengono dagli Stati Uniti, ogni concerto del Toscana Gospel è una festa. Alla fine c'è grande entusiasmo, il pubblico che partecipa, che si alza, che canta insieme al gruppo, come sempre, insomma, il Toscana Gospel Festival rappresenta una festa. Adesso si prosegue, puntiamo un po' sui concerti della provincia di Arezzo con San Giovanni Valdarno. Sì, saremo il 22 al Teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno con Nathan Mitchell, una formazione abbastanza contemporanea di New York. Poi saremo il 26, ancora con Nathan Mitchell, alla Torre di Marciano della Chiana. Il 28 al Teatro Signorelli di Cortona con i Washington Gospel Singers. Il 29, a chiusura del Festival, dei dieci appuntamenti che portano il Toscana Gospel Festival in giro per cinque province della Toscana, avremo JP and the Soul Voices dalla Florida, quindi il sud degli Stati Uniti, un po' la tradizione del Gospel più caratteristica al Teatro Petrarca di Arezzo, il 29. Quindi un appuntamento importante a chiusura del Festival. Sono i prossimi quattro appuntamenti, quindi sono questi qua, nella provincia di Arezzo. Teatro Petrarca al completo per ospitare musicisti, cantanti, artisti, amici di Raffaella Torzoni Barbagli, soprano prematuramente scomparsa in un excursus con le pagine più belle della lirica. Tra i big sul palco, anche il baritono Mario Cassi, la soprano Gaia Matteini, la mezza soprano Sonia Ganassi, il tenore Giorgio Misseri, accompagnati dall'orchestra Città di Arezzo e con la partecipazione di numerosi musicisti. Grande commozione quando la regia ha mostrato il video della stessa Raffaella intonare la celebre area del Gianni Schicchi, o mio bambino caro. La serata voluta e curata dalla famiglia Barbagli ha avuto anche uno scopo benefico a supporto del servizio scudo, cure domiciliari oncologiche sostenute dal Calcet grazie ai contributi dei cittadini. L'incasso devoluto al Calcet è stato di circa 11.000 euro, peraltro con offerte tramite bonifico tuttora in corso. Una bella serata resa magica dal coinvolgimento pieno di tutti gli artisti che hanno voluto ricordare con l'arte e con la musica Raffaella e che si sono stretti intorno alla famiglia della loro cara amica. Cinema Eden, a che punto siamo della raccolta dell'iniziativa per salvare questa sala preziosissima nel centro di Arezzo? Siamo più o meno a metà strada, abbiamo raccolto poco più di 16.000 euro con 300 donatori, quindi una buona partecipazione, però appunto siamo a metà strada. Dobbiamo ancora continuare questa campagna di raccolta fondi. Noi ci siamo dati un obiettivo che è 40.000 euro entro il 31 di marzo del 2023, data in cui noi abbiamo garantito l'apertura del cinema fino al 31 di marzo. Poi se riusciamo a raggiungere l'obiettivo dei 40.000 euro riusciremo a non chiudere, a tenere il cinema aperto anche almeno per tutto il 2023. Quindi siamo a metà strada, siamo in un periodo in cui è più uso andare al cinema, quindi invito tutti a venire in sala al Cinema Eden, ma anche per chi non lo avesse fatto a continuare a contribuire con la campagna di crowdfunding su produzionidalbasso.com dando un sostegno alla vita del cinema Eden. Peraltro siamo in periodo festivo, quindi anche un regalo alternativo, fare un contributo per salvare qualcosa che comunque salva l'anima, perché il cinema diciamolo, tonifica l'anima. Certo, il cinema salva l'anima e poi diventa un regalo alla città fondamentalmente, perché contribuendo a tenere aperto il cinema Eden si fa un regalo a tutti noi, a una città che continua ad avere un luogo importante di quello che è la cultura della nostra città appunto. Buonasera, questa volta vi voglio invitare, ovviamente insieme a Barbara, come sempre, ad un appuntamento cinematografico speciale che ci offre Terreturia. Natale in Classic, 10 film, 10 bellissimi film in 11 serate, che ci terranno compagnia durante le festività di Natale dedicati a due grandi attori del passato che hanno fatto la storia del cinema, Clark Gable e Spencer Tracy, che vedremo anche nei film con cui hanno vinto il loro Oscar. Girati da grandissimi registi come Frank Capra, Victor Fleming e Robert Wise, partiremo con un film che è semplicemente un mito, Via col vento, che sarà dato in due serate e proseguiremo con altre pellicole storiche del cinema americano degli anni 30, soprattutto come Mare caldo, Accadde una notte, che è un altro capolavoro assoluto, La tragedia del bounty, Sui mari della Cina e poi ancora La febbre del petrolio, San Francisco, Capitani coraggiosi e i due film della città dei ragazzi, tutti interpretati appunto da Clark Gable o Spencer Tracy o da entrambi insieme. Pellicole che peraltro appartengono quasi tutte agli anni 30 del 900, come vi dicevo all'inizio del sonoro, quando il cinema diventa appunto classico formando il suo linguaggio e stile definitivo, la cui base resterà fino ai giorni nostri. Anni anche che sono segnati dalla grande crisi e depressione del 29, in cui si cerca di ricostruire il sogno e la speranza. Lo stesso sogno e speranza che Teletruria con queste pellicole voglio augurarvi in questo periodo di feste. Non mancate quindi a Natale in Classic con Barbara Perissi e Luca Bindi. Ciao a tutti, a presto! Ciao a tutti!